Buongiorno e bentornati ad Agreste. In questo periodo in campagna si effettuano le operazioni di espianto e tra poco inizieranno anche quelle di potatura. E' quindi particolarmente attuale il problema dello smaltimento di questa legna. La normativa nazionale relativa ai rifiuti stabilisce che se gli agricoltori bruciano la legna in campagna questo è smaltimento illecito di rifiuto, ai sensi del testo unico ambientale, il decreto legislativo 152 del 2006. Unica eccezione le piante affette da colpo di fuoco, che è l'unica malattia per la quale è possibile e consigliata l'immediata bruciatura direttamente in azienda. Per la gestione del legno dai spianti e potatura dei frutteti, oggi l'agricoltore può scegliere tra diversi sistemi. Trinciare ed interrare i residui vegetali, destinare i residui all'utilizzo in stufe o camini, oppure usufruire dell'accordo di filiera messo a punto da provincia, comuni, organizzazioni professionali agricole e San Marco Bioenergie, legato al piano aria della provincia del 2008 e di cui avevamo già parlato all'inizio del ciclo 2010 di Agreste e che sarà al centro di questa prima parte della trasmissione. Vogliamo infatti cercare di chiarire alcuni punti critici. Non mancherà come sempre la parte tecnica, vedo in questo momento Riccardo Loberti insieme a Clelia Tosi. Che cosa ci sarà nella parte tecnica Riccardo? Certo Tania, innanzitutto un saluto a te e a tutti voi che ci state seguendo, un saluto anche da parte di Clelia Tosi. Nella parte tecnica di oggi parleremo di come si è sviluppato quest'anno il copo di fuoco in provincia di Ferrara e vi daremo anche utili consigli su come contenere e gestire al meglio questa malattia ovviamente per salvare le piante. Il tutto nel vostro interesse, ci vediamo tra un po'. Ed ora veniamo all'accordo di Figliera per lo smaltimento delle ramaglie che è operativo in provincia di Ferrara dal 18 febbraio 2010. Quest'anno è un anno di sperimentazione per vedere se e quali modifiche apportare per fare in modo che tutto funzioni al meglio e che ci siano vantaggi per le varie parti coinvolte. Questo accordo prevede sostanzialmente una valorizzazione energetica dei residui vegetali, trasformandoli da rifiuto in risorsa. In pratica possono essere conferiti alla centrale di bando di Argenta che li usa per produrre energia elettrica utilizzando il calore. Per aiutare le aziende nella gestione di questo accordo partiamo come sempre dall'esperienza di un agricoltore. Siamo a San Martino nell'azienda di Giuseppe Magri che quest'anno abbiamo già incontrato nell'area omogenea di San Bartolomeo in Bosco area in cui era già stato sollevato il problema della gestione dei residui vegetali. Allora Giuseppe attraverso la tua esperienza cerchiamo di riportare un po' le problematiche principali degli agricoltori che stanno seguendo la nostra trasmissione. Nel caso in cui voi agricoltori dobbiate espiantare o dobbiate smaltire delle ramaglie, dei tagli di potatura o altro legname che problemi incontrate? Quali sono i problemi concreti, quotidiani con cui vi dovete scontrare? Le problematiche che dobbiamo affrontare in questi casi direi che sono riconducibili a due tipi. La prima problematica, forse la più importante, è il problema di come organizzare lo smaltimento di questi residui di potatura oppure di espianti. Accanto al problema logistico di dove fare il mucchio e di dove posizionare l'area che sia accessibile dagli otto mezzi per il carico bisogna naturalmente individuare il collettore che ci fa l'operazione. Questo forse è il problema principale. Si è visto che l'organizzazione del collettore non è sempre semplice. Ci sono due strade fondamentalmente. O c'è un recapito telefonico, si telefona al collettore, lui ti dà una risposta. Sì, va bene, prendo nota, verrò. Un altro sistema è quello di cercare in proprio, quando il collettore si capisce che non arriva mai, di risolvere il problema. Dalla mia esperienza ho verificato che un collettore viene senza richiedere costi, porta via tutto il legname. Altri collettori invece, probabilmente anche più solleciti, poi spesso ci richiedono anche dei soldi per fare il trasporto in modo più veloce possibile e questo comunque non è secondo gli accordi che erano stati fatti. Facciamo un esempio concreto proprio per far capire quali sono i problemi. Cioè io espianto oppure faccio della potatura. Poi che cosa succede? Il protocollo dice che io dovrei predisporre un'area adeguata al transito degli otto mesi del collettore che naturalmente non sono piccolini perché sono camion rimorchio, camion con sponde alte da 400 tonnellate che hanno bisogno di muoversi entro certi spazi. Se questi spazi mancano bisognerebbe trovarli. Se l'azienda è grande, strutturata, con spazi adeguati non ci sono problemi. Se l'azienda è piccola dovrebbe crearsi una piccola area dove depositare questa legna di potatura oppure di espianti e aspettare che il collettore arrivi e per fare questo mucchio in posizione logistica accettabile e risolgibile dal camion quando invece l'espianto è molto lontano non è facilmente risolvibile se non spostando tutta la legna a spesa dell'agricoltore e farne un mucchio nell'area che ha predisposto quindi costi, tempi, non da poco. Quando il collettore viene a smaltire il mucchio spesso, anche per l'entità volumetrica del mucchio non lo porta via in una volta solo. Ma non è che venendo oggi venga domani a completare smaltimento. Possono passare dei giorni, anche mesi e questo sicuramente crea problematiche gravi per l'azienda anche logistiche che minano anche la credibilità di questi accordi. Una soluzione che potrebbe essere utile per gli agricoltori potrebbe essere quella di una regia che potrebbero svolgere le associazioni di categoria a cui noi potremmo rivolgerci e loro potrebbero fare da tramite noi agricoltori e i collettori. Noi telefoniamo alla nostra associazione, loro organizzano il trasporto, organizzano la logistica e semmai mettono assieme i residui di potature che si trovano fra più agricoltori vicini con tempi certi perché l'azienda agricola, è chiaro, non può aspettare i tempi della burocrazia, il tempo del collettore che ha i suoi problemi e che semmai non è inadeguato alla massa di regname che è da smaltire. Che cosa manca però per arrivare a questa soluzione? Perché non ci si è ancora arrivati secondo te? Perché secondo me il protocollo che risponde a esigenze di qualità dell'aria che tutti sottoscriviamo ci è stato calato senza una necessaria, secondo me, sperimentazione, prova, senza un periodo di rodaggio. Diciamo che il protocollo è migliorabile, visto che siamo vicini alla scadenza di questo primo anno di prova si può migliorare. Secondo me si deve migliorare, se così non fosse, forse metterebbe in crisi la continuazione del protocollo e soprattutto l'adesione convinta degli agricoltori, perché è chiaro che tutte le regole perché siano seguite hanno bisogno che la gente le accetti e che trovi delle soluzioni adeguate. Il frutticoltore deve risolvere un problema contingente, lui decide di calare, dal momento che ha deciso vorrebbe che l'operazione di sgombero delle sue ramaglie fosse rapida, certa e sicura a costi possibilmente il più condotto possibile, a costo zero come si era detto e non essere gravato poi da problematiche dell'ultima ora, quindi dover sborsare per portare via questo mucchio che non portano mai via e secondo me risolvere questa problematica sicuramente accontenta l'agricoltore.